in partenza tutti dicono ma siamo spaventati in questo momento non sappiamo bene cosa fare il caso non è il caso di investire su queste aziende in fin dei conti sono aziende piccole sono anche quelle potenzialmente più vulnerabili che possono saltare quindi forse è meglio di no in realtà poi spiegandogli un po meglio alcune logiche vediamo che lo capiscono e poi si muovono e quali logiche sono belle sono principalmente dal fatto che è vero che queste aziende sono più piccole e quindi in teoria più vulnerabili nella pratica è mia nostra grande convinzione che siano le meno vulnerabili perché posto che chiaramente devono sempre fare i conti con la cassa qualunque azienda e quindi se i fatturati si fermano è un problema per tutti però bisogna dire che il nostro tessuto economico fatto di pmi e a maggior ragione il mondo delle delle startup delle aziende dinamiche legate all'innovazione sono proprio caratterizzate da una forte dinamicità sono fatte da persone che sono abituate a rigirare il proprio business a cambiare tutto no a ripartire perché lo fanno già perché gli cambiano le condizioni del mercato in condizioni normali oggi più che mai stiamo vedendo aziende tessili che facevano i vestiti che si sono riconvertite in poche settimane e che oggi fanno le mascherine piuttosto che aziende di tecnologia che stanno mettendo tutte le loro risorse le loro competenze di sviluppo a servizio di costruzione di software piuttosto che sistemi di monitoraggio del virus piuttosto che in tutto il tema della telemedicina piuttosto che di nuovo la tecnologia hardware quindi dispositivi fatti per per intervenire in questa situazione di crisi e quindi questa grande capacità di reinventarsi di riadattarsi a una nuova condizione è quello che in realtà fa di queste aziende credo un investimento molto meno rischioso di come potrebbe essere percepito dove credo che ci siano dei problemi più gravi casomai forse sulle multinazionali sulle società quotate molto strutturate perché quelle devono gestire decine di migliaia di dipendenti e riorganizzarsi è un lavoro lungo faticoso e doloroso e quindi sono sempre estremamente più lenti nell'adattarsi e quindi le probabilità di saltare le vedo quasi più lì che non sulle aziende che trattiamo noi poi scusami aggiungo che addirittura fra le cose che trattiamo noi abitualmente e ci sono aziende che da questa situazione traggono beneficio non lo dico con con cinismo noi per dire che c'è chi approfitta della situazione ma semplicemente tante di queste aziende per loro natura offrono dei servizi che oggi diventano indispensabili o quantomeno utili o molto utili alla comunità dopo so che ci collegheremo con una di queste aziende che spiegherà un po le logiche di quello che sta facendo e vedrete che ne è un esempio fantastico ma comunque anche senza andare tanto lontano basti pensare agli commerce o a chi fa delivery di prodotti a maggior ragione se food delivery piuttosto che no materiali dispositivi medicali insomma qualunque qualunque cosa di questo genere in momenti come questo è normale che aumenti anche i propri economics e non è non credo che no dobbiamo vergognarci a dirlo perché ovvio che sono aziende che vivono di questo e che beneficiano in questi momenti i miei soldi personali oggi cercherei di farlo poco su questa tipologia di aziende siamo di fronte a una nuova normalità no a cui un po ci dovremmo abituare che non vuol dire la situazione attuale non vuol dire tutti a casa ma che alcuni aspetti che riguardano la vita di tutti noi sono destinati comunque essere essersi ormai modificati che cosa facciamo noi ben noi la scelta un po di campo che abbiamo fatto è stata quella di dire è inutile che ci mettiamo a fare qualche cosa di diverso da quello che già facciamo perché crediamo che già il nostro ruolo sia molto importante così com'è cioè noi agiamo da strumento che consente alle imprese di finanziarsi presso il pubblico quindi portiamo i capitali privati verso le imprese che ne hanno bisogno per crescere quelle quelle virtuose naturalmente e e questo crediamo che sia già un ruolo sufficientemente no che ci riveste di 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 sufficiente ehm responsabilità no e quindi vogliamo fare questo ma ancora di più ancora meglio andando a focalizzare il più possibile il nostro sforzo come piattaforma e ancora di più l'attenzione degli investitori che eh sono sulla nostra piattaforma verso le aziende che già oggi possono avere un un impatto eh sulle nostre vite quotidiane con strumenti prodotti servizi che in questo momento in particolare sono necessari o addirittura indispensabili e eh che riteniamo che siano servizi che appunto produrranno valore non solo adesso nell'emergenza ma che continueranno a produrre valore eh quindi penso appunto banalmente a tutte le eh metodologie di consegna a casa di prodotti e servizi penso a aziende che eh sviluppano device eh che servono per la nostra protezione personale per la salute penso a aziende che eh appunto producono non solo presidi hardware ma eh presidi digitali che possono aiutare oggi ma che possono servire in futuro quindi la nostra è un po' vuole essere una semplice chiamata alle armi e infatti l'abbiamo chiamata Mama Crowd chiama Italia nel frattempo? Scusa? La facciamo vedere nel frattempo? Eh volentieri sì se tu hai possibilità ma non abbiamo fatto chissà che cosa abbiamo semplicemente modificato la nostra home page eh per dare questo messaggio poi seguirà una landing page eh più dettagliata che stiamo su cui stiamo lavorando ma in realtà è un messaggio semplicissimo stiamo solo dicendo eh care imprese se fate qualunque cosa che in questo momento possa avere un impatto eh sociale un impatto per la per la comunità eh di qualunque genere venite da noi perché il nostro mestiere è portarvi i capitali e quindi eh ci daremo da fare per per farlo e dall'altra parte cari investitori eh se avete capito che il mondo sta cambiando e che un ottimo modo per preservare il proprio patrimonio e farlo crescere nel tempo è puntare su questa tipologia di aziende questo è il momento per farlo venite più che mai da noi guardate dentro a queste aziende perché sono quelle che producono già valore immediato per tutta la comunità e ne produrranno tanto per il futuro in questi ultimi giorni anche settimane eh movimenti sui mercati eh dove c'è chi ha perso veramente tanti soldi eh almeno sulla carta no fino a se vendesse oggi le azioni sarebbe in grande perrita c'è anche chi ha approfittato e ha guadagnato tanto perché ha fatto i cosiddetti short quindi le vendite allo scoperto di titoli che ti consentono di guadagnare quando il mercato scende o quando certi titoli scendono e poi è quello che è stato bloccato dalle autorità italiane andando a mettere un divieto sugli short che è tuttora in vigore eh però indipendentemente diciamo da chi prova ad approfittarne in questo modo in generale eh credo sia molto corretto quello che dici tu non è un fatto di speculazione non è un fatto di pensare come posso guadagnare da questa situazione io credo che sia un fatto di come preservo il mio patrimonio oggi e per il futuro come faccio a ehm diciamo fare in modo che i miei risparmi possano passare i miei figli con un valore aggiunto eh e io qui ho una grande convinzione che va anche oltre al periodo di crisi cioè io credo che tutto quello che è eh l'innovazione l'impresa innovativa l'impresa di domani è un'impresa che appunto si adatta rapidamente si adegua e produce tecnologia oppure usa tecnologie per eh rendere il il lavoro eh più più efficiente eh e credo che questo sia un meccanismo che eh potenzialmente danneggia ci può anche danneggiare in futuro da un punto di vista di banalmente posti di lavoro perché se tu pensi anche solo all'intelligenza artificiale no eh quella è una cosa che un domani può portare via posti di lavoro come già sta facendo oggi Watson che si sostituisce agli avvocati o domani ai medici insomma ci sono tecnologie che hanno un impatto negativo le le auto che a guida autonoma eh tutti i posti di lavoro potenzialmente che se ne vanno allora se io eh dovesse pensare a come preservare i miei il mio patrimonio a come passarlo ai miei figli eh direi ma quali sono le aziende che invece beneficiano di questi meccanismi quali sono quelle che aumentano in produttività perché è vero che queste aziende che usano bene le tecnologie eh impiegheranno meno persone ma impiegando meno persone guadagneranno in produttività e quindi di fatto guadagneranno sui propri economics eh quindi il modo che io ho migliore per preservare i miei capitali è investire su quelle aziende che diventano più efficienti quello che facciamo noi non è altro che questo diamo un accesso ai privati eh e diamo la possibilità di investire e domani beneficiare eh dal valore che viene prodotto da queste aziende che viene prodotto da queste aziende Grazie.